Ben ritrovati a Diocesi Informa, il notiziario della Diocesi di Molfetta, Ruvo Giovinazzo Terlizzi. Alcuni appuntamenti per questa settimana. Stasera dalle 16.30 alle 19.30, giovedì 8 aprile, ultimo incontro del corso di aggiornamento promosso dall'Ufficio di Scolastico Regionale sul tema l'arte di essere umani. La tavola rotonda online ovviamente conclude un percorso di due anni che ha visto partecipare circa 200 docenti di religione e non solo. La conferenza sarà, la tavola rotonda sarà possibile seguirla per tutti sui canali YouTube e sulla pagina Facebook della Diocesi. Ancora due tappe della visita pastorale di Monsignor Cornacchia, l'8 e il 10 aprile alla parrocchia San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia e il 9 e l'11 aprile alla Madonna della Pace di Molfetta. Sul sito diocesano la Caritas ha reso disponibile il calendario delle convocazioni per i colloqui di quanti hanno aderito al Servizio Civile Universale. Per coloro che hanno fatto richiesta è importante guardare questo calendario perché ha effetti di notifica ufficiale. Dalla sera di sabato 10 alle 19 a domenica 11 aprile presso la basilica Madonna dei Martiri avrà luogo la festa dell'indulgenza come d'antica tradizione Molfettese risalente al 1485. Le messe alle 8 alle 10 alle 11 e 30 e poi quella delle 19 presieduta dal capitolo cattedrale di Molfetta. E adesso uno sguardo ai contenuti di luce vita numero 15 dell'11 aprile. Numero che si apre con l'annuncio degli appuntamenti previsti per il 28esimo anniversario del Dies Natalis di Monsignor Antonio Bello del Servo di Dio Antonio Bello 20 aprile. Martedì 20 aprile alle ore 19 nella cattedrale di Molfetta il Vescovo presiede la Santa Messa nell'anniversario di morte di Don Torino Bello e seguirà poi la supplica alla Madonna della medaglia miracolosa che sarà presente in diocesi dal 18 al 20 aprile. Il 22 aprile lo annunciamo ma lo ricorderemo la settimana prossima convegno diocesano sull'episcopato di Don Tonino l'eredità da vivere sfide ai laici nel magistero di Don Tonino Bello incontro promosso dalla consulta delle aggregazioni laicali. La relazione sarà tenuta dal professor Sergio Tanzarella ordinario di storia della chiesa alla facoltà teologica dell'Italia meridionale di Napoli. Sabato 24 aprile poi in cattedrale a Molfetta si concluderà la visita pastorale in concomitanza con la messa crismale ma daremo anche di questo ulteriore notizia. Il giornale poi prosegue con la rubrica pastorale pandemica quarta tappa di un viaggio che stiamo facendo tra le parrocchie della diocesi con i parroci per capire come stanno vivendo la pastorale in questo periodo di pandemia. Il servizio è di Francesca Balsano mentre a pagina tre ulteriore rubrica Audiant et le Tentur sull'episcopato di Monsignor Bello curata da Don Ignazio Pansini che mette a confronto l'enciclica Laudato Si e il magistero di Don Tonino Bello sull'ambiente. Anche questo numero poi riporta un doppio paginone dedicato alle due visite pastorali quella della San Michele Arcangelo di Ruvo e Madonna della Pace di Molfetta. Come sempre le parrocchie si presentano raccontando i propri vissuti, la propria storia, le esperienze più significative e l'arte che caratterizza l'edificio ecclesiastico. In ultima pagina la spiritualità domenicale di Don Ignazio De Nichilo e una riflessione di Don Nico Tempesta sul rapporto catechesi e famiglia nell'epoca del Covid. Chiude il giornale Michelangelo Parisi, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali che dà l'annuncio del prossimo festival della comunicazione che si svolgerà in maggio in collaborazione tra la famiglia dei Paolini, la diocesi di Rieti e la nostra diocesi dall'1 al 16 maggio. Il 19 aprile conferenza stampa di presentazione alle ore 19 online in cui sarà dato il dettaglio del programma di questo secondo festival che viviamo in diocesi. Come vedete 8 pagine dense, ricche di contenuti, abbondanti di spunti per riflettere, per meditare, per crescere insieme. Buona lettura.